La breve parentesi d'amore tra Oriana e Daniele sembra ormai definitivamente conclusa. Le immagini mandate in onda nel corso dell'ultima diretta del GF VIP hanno scatenato liti e accuse da parte di Daniele, convinto che Oriana lo stia prendendo in giro. Dopo la puntata, infatti, tra i due è scoppiato un acceso scontro, durante il quale sono volate anche parole pesanti da parte del Geffino. Prima Daniele si è sfogato in confessionale, dove di Oriana ha detto, per me conta il rapporto umano più che un bacio dato dietro le ante dell'armadio. Io riesco molto bene a capire se una persona è sincera o vuole pigliarmi per il culasterisco punto. Daniele è certo che a Oriana piaccia Luca, e che lei si sia buttata tra le sue braccia solo dopo il rifiuto di Onestini. Oriana però nega con decisione questa convinzione di Daniele, basta con farmi passare che sono innamorata di Luca, non mi piace ma è un amico, basta. Daniele però perde le staffe, e nel corso di una discussione, accusa Oriana di essere la regina delle false e aggiunge, ma chi li vuole i tuoi baci? Sai una come te quante ne trovo in giro? A centinaia. Soprattutto di false. Colpita da questa reazione, Oriana annuncia in confessionale di non voler più avere a che fare con Daniele. E a riguardo ha detto, è pesante. Mi piaceva, provavo un interesse in più, ma ora non più, mi sono stufata. Ma sarà davvero così? Non è la prima volta che i due litigano aspramente, per poi fare pace e riavvicinarsi. Sarà così anche questa volta? Grazie per la visione, iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.